Musica Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Oggi realizzeremo insieme un explosion box In questo caso la base dell'explosion box Io l'ho fatta perché dovevo fare un esperimento con la cameo E ho utilizzato quella Però vi assicuro che si può fare tranquillamente Io di solito le faccio al 70% senza l'utilizzo della cameo Anche perché non amo molto le parti tratteggiate Quindi quelle della piegatura come le fa la cameo Perché tendono a rompersi Io le trovo molto più delicate piuttosto che tracciare la linea E piegare con una scoria, un bor, con un righello o con quello che volete Io l'ho realizzata così ma vi assicuro che il tempo che ho impiegato Per rifilare l'explosion box L'avrei realizzata tagliandola Come mi avete già visto fare anche in altri video Allora per decorare questa explosion box Io utilizzo una collezione della Simple Story Per San Valentino Quindi per questo San Valentino Che però è uscita a fine autunno, a novembre più o meno Ed è la Kissing Do È una collezione molto carina All'inizio non mi aveva preso in modo particolare Ma poi ho visto realizzato il progetto delle otto card Quelli che la Simple Story mette a disposizione per i vari rivenditori E gli abbinamenti che hanno creato la rendevano veramente molto interessante Io non ho preso il kit per fare le card Ma ho preferito prendere tutti gli elementi della collezione Perché il costo era alla fine lo stesso Non mi serviva avere i cartoncini perché sono pieni In questo modo avevo tutto quello che mi serviva per decorare E potevo scegliere sia di fare le card Anche perché ne escono fino a 16 Quindi molte di più rispetto alle otto che loro propongono E potevo anche realizzarla per qualsiasi progetto che mi veniva in mente Nell'info box vi metterò il link Per se lo trovo ancora perlomeno Perché su Aliexpress mi è capitato per caso la pubblicità su Instagram Dove vendono le Explosion Box fatte in cartoncino Già fatte ma vi assicuro che sono bellissime Questa è molto semplice Quindi ha la prima parte Quindi la base che è quella È per quello che vi dico che è molto semplice realizzarla a mano Io le ho già fatte e impiegate veramente molto di meno Senza avere chissà quanti macchinari in casa Alla fine dovete realizzare una croce Decidete voi le misure E siete più che a posto Io ho realizzato la prima parte in base Quindi molto semplice Perché dopo andavo ad applicare le fotografie Poi ho realizzato Ovviamente a completare la scatolina L'unica differenza è che se la realizzi a mano O vai a utilizzare dei punch per decorare la parte del coperchio Oppure lasci un taglio netto Come se fosse una scatola E non vedo niente di particolarmente necessario Ecco avere questo effetto Con l'ondina Per quanto riguarda la seconda parte dell'Explosion Box Io ho deciso di realizzarla Con questi inserti a taschina In modo da poter andare a mettere all'interno O delle frasi Oppure delle fotografie Come poi io ho fatto Con delle tag estraibili Allora Non vedrete l'Explosion Box finita Perché non potevo farla vedere Perché comunque non potevo far vedere le fotografie Quindi vedrete di per sé tutto il progetto Decorato con I vari abbellimenti della collezione Non la vedrete semplicemente incollata E l'unica cosa che non vedete sono le fotografie Appunto perché Non potevo mostrarle Ma le fotografie erano semplicemente incollate Ed avevo utilizzato le frasette Che si trovano Nelle 6 pagine di stickers Per abbellire ogni tag con la foto O comunque su ogni foto Ho messo una frase diversa L'unica cosa che cambia Ecco quello Per il resto non ho aggiunto Nessun altro tipo di decorazione Quindi voi vedete L'Explosion Box completa Vi stavo dicendo appunto Che mi è capitato di vedere Che su Aliexpress Vendono le basi per l'Explosion Box Quindi per chi non ha magari tanto tempo Non ha un plotter da taglio Soprattutto perché ce n'erano alcune Veramente abbastanza particolari Quindi anche laboriose Possibili da fare a mano Anche con l'utilizzo di template Però ci vuole un attimino di pazienza E non hanno un costo esorbitante Si aggirano intorno agli 8 euro Se contiamo quanto costa un foglio di bazzi E quante ne servono per realizzare Un'Explosion Box Complessa come quello che ho visto su Aliexpress Più o meno siamo lì come costi E vi evitate di perdere tempo Ovviamente io non vi so dire come sono Quando arrivano a casa Però l'idea è carina Quindi se ritrovo il link Ve lo metto nell'info box Per chi fosse interessato ad acquistarla Anche perché decorare un Explosion Box Una volta che hai già la struttura pronta Basta avere delle carte Gli avvellimenti di qualche collezione Magari a tema Se dobbiamo fare un regalo E otteniamo comunque un lavoro molto carino Facendo tutto da soli Quindi come vedete Io ho utilizzato due colori di bazil Ho utilizzato un rosso Non chiedetemi il colore Perché mi sono dimenticata di guardare Il codice del bazil E questo color tortora Sarebbe stato molto carino Anche utilizzare un marrone Ma purtroppo tra i bazil che ho Non ho questa colorazione Non l'avevo mai acquistata Non pensando che mi potesse servire Però non ci sarebbe stata male Avevo tantissime carte Sul rosa, sugli azzurri Ma non ci sarebbero state assolutamente bene E soprattutto anche perché È da regalare a un uomo Quindi ho evitato anche Di utilizzare abbellimenti a fiore Ho cercato di rimanere Un attimino un po' più sul neutro Come vedete Questi sono tutti gli abbellimenti Che comprendeva questa collezione Che appunto All'inizio Non mi aveva preso Ma una volta viste le card E gli abbinamenti delle carte Sono veramente molto belle Poi vi assicuro Che si possono fare veramente Tanti lavori Io ho realizzato anche Un'altra cosa E vedrete comunque Insomma un po' alla volta Nei video Cosa siamo andate a realizzare Le carte Ovviamente le ha scelte Mia sorella Ha scelto le carte Che preferiva Quindi a me non mi cambiava In maniera particolare Una volta tolte Le carte floreali Che In questo caso Essendo comunque Da dare a un uomo Non erano per niente adatte E poi non le trovavo Così a tema Utilizzate Senza sotto Magari la base Con i cuoricini Quindi ho utilizzato Principalmente Questa carta Quindi quella con baci a bracci E ho utilizzato La carta marroncina Con tutti i cuoricini Le ho un po' alternate Le fantasie All'interno della scatola Quindi alternando Anche sui vari strati I vari lati Sono sempre le stesse Quindi vedremo Sempre queste due carte Che poi saranno anche quelle Che faranno da cornici alle foto Quindi oltre che per decorare La scatola Di per sé Saranno quelle Che andranno a mattarmi Le fotografie O comunque Creeranno lo sfondo Per gli abbellimenti Che dopo mi vedrete Mettere Sulle varie Sulle varie facciate Allora Questa scatolina Non è grandissima È all'incirca Di base 7 cm per 7 E se non mi sbaglio Arrivava A 7 A 8 cm Più o meno Come altezza Una cosa del genere Quindi la base È quadrata Dopo si allunga E non è enorme E ne ho create Di molte più grandi Anche utilizzando Squatuta natale Mi serviva Anche fossero consistenti Quindi le avevo rivestite Avevo fatto tutto a mano Quindi Basta andare a vedere Il video di un anno E mezzo fa Circa E vedrete L'explosion box Natalizia Poi ovviamente Non sempre ho il tempo Di registrare I video Mentre che faccio Un lavoro Delle volte Le faccio E basta Anche perché Come sapete La mia cameo Fa veramente schifo A chi mi continua A chiedere Se io la consiglierei Assolutamente no Io sono stata sfortunata Perché l'ho presa Appena uscita Ma veramente Uno schifo Di macchina E non so nemmeno Come fanno Non vergognarsi A continuare A tenerla sul mercato Perché francamente Nonostante io L'abbia portata Anche a far controllare Insistono a dire Che è perfetto Anche se le prove Che mi hanno dato Con file Acquistati Dallo store Della cameo Quindi non realizzati Da me Il lavoro non è uscito Ma non importa Io rimango sempre Della mia idea Che Come macchina Ha troppi difetti Come vedete Anche nel caso Delle card Io le ho rivestite Cosa ho fatto Ho semplicemente Lasciato I pezzettini Rettangolari O lo stonda d'angoli Più o meno Della stessa dimensione E sono andata Semplicemente A ricrearla Una cosa Che non credo Che vedrete Perché ho deciso Di fare dopo Queste piccole tag In cui hanno creato Questo invito Per riuscire Ad estrarle Io sono andato Comunque A creare un foro Gli ho fatto passare Un nastrino Sul rosso bordeaux Perché mi sembrava Più indicato Perché se no Avevo paura Che Si potessero rovinare E quindi Quella è l'unica cosa Che non vedete Perché l'ho deciso Di fare dopo Una volta Che ho iniziato A mettere le fotografie Se non mi sbaglio A completare A completare L'explosion box Ho creato La scatolina Una scatolina Diciamo che All'inizio Avevo preso Un file Della silhouette Che vabbè L'avevo tagliato Da cani Ma comunque Non ci stava All'interno E non avevo valutato L'altezza Era molto carino Perché ricordava Un po' La confezione Del latte Ma era troppo alto Quindi ho deciso Di tagliarlo E di andare Ad alzare Un po' La scatolina In modo da poter Mettere dentro I cioccolatini Perché poi Faremo anche I cioccolatini Fatti in casa Giustamente Non si poteva Non fare i cioccolatini Fatti in casa E quindi Quello È una cosa Che faremo dopo Magari se riesco Dato che questo video Comunque Andrà online Dopo E se mi ricordo Non ve lo assicuro Magari faccio la foto Anche con i cioccolatini E vedete Come l'abbiamo Un po' Rifinita Togliendo ovviamente La parte Delle immagini Come vedete Io ho utilizzato Gli abbellimenti Quindi ho cercato Di creare Degli sfondali carini E ho fatto in modo Di andarla A ricreare In modo che Da ogni lato In cui venga aperta Frontalmente Si ha sempre La fotografia Quindi io L'ho ricreato In questo modo In questo caso E anche qua Io volevo fare Un fiocchetto Sopra Però mia sorella Ha preferito Utilizzare Un chipboard Con la scritta 14 febbraio Come vedete Quindi ovviamente Il regalo Lo doveva fare lei Quindi ho cercato Di andare Ad utilizzare Giustamente I suoi gusti Nella parte interna Ho evitato Di mettere chipboard Puffy stickers Perché mi andavano Creare spessore Però nella parte Esterna Li ho potuto Utilizzare Soprattutto nella parte Esterna Per quanto riguarda Concerne il coperchio Perché Nel lati Dell'explosion box Mi avrebbero dato Dei problemi E deve essere Molto facile Aprirla Perché questo È il bello L'effetto sorpresa Quando la apri Hai la cascata E dopo Tiri fuori Tutte le immagini Quindi spero Che il video Vi sia piaciuto Ciao a tutti E al prossimo video